Viene ora consegnata la croce commemorativa per la missione militare di pace in Kosovo alla dottoressa Pioza Loosha-Imistani, con la seguente motivazione. In qualità di media analyst, nell'ambito del Patrick Rafferty's Office di K4, si è rivelata una preziosa collaboratrice, grazie alla sua profonda conoscenza della situazione sociopolitica ed economica in Kosovo. La sua spiccata capacità analitica, unita ad una perfetta padronanza della lingua inglese sia parlata che scritta, l'annoreta un pilastro fondamentale per la gestione dei delicati compiti a lei affidati. Grazie. 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 Grazie.